All'attacco anche Beppe Grillo che ha seguito dalla tribuna l'impervento di chiusura del Premier. Ma sentiamo Francesca Lagorio. È fantastico, lo stanno a sentire serio. È fantastico. Fantastico, commenta Grillo con ironia, per tutta la durata del discorso del Premier che ha chiuso di fronte al Parlamento europeo il semestre di presidenza italiano. È il nulla che parla, il concentrato di quella che non è e con sarcasmo fa il controcanto a Renzi. In questo semestre il debito pubblico è aumentato di 74 miliardi rispetto al mese dell'anno scorso, a 2.154. La disoccupazione è al 13, quasi al 13 e mezzo in questo semestre. Seduto tra i giornalisti, il leader dei 5 Stelle alterna i toni senza rinunciare alle battute. C'è chi racconta balle e ci crede, come Berlusconi dice, c'è chi invece lo sa. Quindi parla di una cosa per coprirne un'altra. Insomma, è una bocciatura senza pello per Renzi, proprio come quella che...